Si è tenuto nei giorni scorsi presso il centro sociale di Sant'Arsegno un incontro tra le varie anime del PD locale. All'incontro hanno preso parte il segretario provinciale del partito Nicola Landolfi, il senatore Michele Pinto ed i consiglieri di maggioranza del PD dell'attuale amministrazione. Il segretario Landolfi nel corso dell'incontro ha disconosciuto il commissariamento annunciato durante la tornata elettorale dello scorso maggio e qualsiasi comunicazione a sua firma. Ognuna delle anime del PD cittadino è rimasta quindi sulle sue posizioni e nessun accordo è stato stilato. Per cui adesso si procederà con il nuovo tesseramento e solo ora sarà inviato un commissario da parte della segreteria provinciale del PD, il quale sarà affiancato da due componenti locali in rappresentanza delle due correnti creatisi nel PD di Sant'Arsegno. A questa fase seguirà quindi quella della nomina del nuovo segretario e del direttivo del PD sant'Arsenese. Per quanto riguarda il Partito Democratico a livello regionale, il sindaco di Salerno De Luca aveva lanciato nei giorni scorsi ad Agropoli città amministrata da Franco Alfieri, un altro papabile candidato PD alla presidenza della regione, la sua candidatura. Ed in merito proprio ad Agropoli il ministro Maria Elena Boschi, ospite della festa del Partito Democratico, ha frenato l'entusiasmo del sindaco di Salerno. De Luca ha sottolineato il ministro e un ottimo amministratore, ma in campagna saranno i cittadini a scegliere. Se ci sarà un nome condiviso andremo avanti, altrimenti saranno gli elettori a scegliere con le primarie. Ed in merito all'apertura di De Luca al sindaco di Napoli De Magistris, la Boschi ha aggiunto Non è più tempo di commissari, il partito campano sarà capace di scegliere.